Partiti da Cancun, faremo un'ora e dodici di ghiaccio per poi arrivare a Puerto Aventuras. Quella sarà la nostra base per i prossimi giorni. Ragazzi, benvenuti a Puerto Aventuras. Questa sarà la nostra location nei prossimi quattro giorni. Gestisce un ragazzo inglese, gentilissimo tra l'altro. Adesso vi faccio vedere un po' la situation. Interazione. Qua devono finire i lavori. Questa faggia è spettacolare. Cosa faccio qua? Tutta la foresta. E qui la pool, taglia di piscina. Allora, ogni tanto gira qualche iguana. Tanta roba. Michi, com'è? Questo è l'appartamento. Cucinotto. La ricondizionata fondamentale. Sei pronto a buttare in piscina, Jack? Si. Dai. Come metti i ripasati? Vabbè, come rimasti? Il cessetto. Vi dèi qua? Non ce n'ha nessuno, però vabbè. Ce l'ho la doccia. Ehi. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.